Piogge e temporali è quanto comunicato dalla Protezione Civile della Regione Campania per la giornata di domani. L'allerta meteo gialla è prevista dalle ore 6 fino alle ore 20. Un quadro meteo, come comunicato dalla Protezione Civile, associato ad una criticità idrogeologica su tutta la Regione, ovvero le zone interessate dall'allerta meteo gialla sono Piana Campana, Napoli, Isole e Aria Vesuviana, la penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, il Tusciano, l'Alto Sele, la Piana del Sele, l'Alto Cilento, il Tanagro e il Basso Cilento. Si prevedono precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale di moderata intensità, con possibile raffiche durante i temporali. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da un'incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, con danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento, fulminazioni, possibili grandinate e a caduta di rami o alberi. La Protezione Civile della Regione Campania dunque raccomanda agli enti competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare tali fenomeni.